Cosa ti viene in mente quando senti la parola Antartide? Probabilmente freddo, neve, ghiaccio e pinguini. Eppure questa è una delle regioni meno esplorate al mondo, che nasconde tesori particolari e unici. Vediamoli! Non devi andare in Antartide per vedere questa cosa strana, basta aprire Google Earth e spostarsi su una delle isole più a sud dell'Antartide, l'isola di King George. Di recente, chi usa internet avrà notato l'entrata grande e piuttosto strana di una grotta. Dove porta questo buio passaggio? Sono state fatte delle ipotesi. È l'ingresso di una base segreta o un laboratorio? Fa parte di una navicella spaziale caduta qui migliaia di anni fa? È la porta dell'antica città di Antartide. Forse c'è una montagna di roccia gigante con un'antica grotta sotto la neve e il ghiaccio? Ecco alcune idee. Con internet si sono potute calcolare approssimativamente le dimensioni della grotta. Potrebbe essere alta circa 22 metri e larga circa 75. Praticamente ci si potrebbe nascondere un Boeing lì dentro. Probabilmente si tratta di un'entrata naturale. È una spiegazione logica, ma ci sono due stranezze. Primo, guarda i piedi della montagna. Sembra che ci siano degli scalini. Sono scuri, come se fossero fatti di pietra. E se guardiamo più da vicino, si possono notare delle forme tipo impronte umane. Qualcuno è già entrato nella grotta? O ci vive ancora? La seconda stranezza è la scomparsa dell'entrata misteriosa. La prima volta era stata notata su Google Maps nel 2007. Poi è scomparsa. Poi è riapparsa qualche anno dopo. È scomparsa di nuovo e nel 2022 è stata rivista. Forse le nevi si sciolgono, ne cade uno strato, poi il vento lo sposta e il ciclo si ripete. Ma i presunti scalini che portano alla grotta fanno dubitare che si tratti di un tunnel naturale. Si possono trovare facilmente le coordinate su internet e con Google Earth è possibile visitarla. Se trovi qualcosa, faccelo sapere. C'è un'altra cosa strana che è stata scoperta con Google Earth. Nel 2020, un navigatore trovò uno strano oggetto che somigliava a una nave gigante, a circa 160 chilometri dalla costa antartica. Era coperto di ghiaccio e neve e stava su un fianco. Sembrava una nave da crociera. Si vedevano le finestre, la coperta, il ponte, ma non tutti erano d'accordo. Alcuni pensavano che fosse una navicella spaziale. Altri pensavano si trattasse di un edificio segreto. La persona che per prima aveva notato la nave affermava che fosse lunga circa 120 metri, la lunghezza perfetta per una nave passeggeri. Ma che ci faceva una nave in un posto così remoto e in mezzo a un ghiacciaio? Come ci era arrivata? Chi la guidava? Nessuno ha ancora trovato le risposte a queste domande. Nel 2016, sempre tramite Google Earth, si è scoperta la foto di un mostro marino sconosciuto che nuotava a largo della costa antartica. Questa creatura somigliava a un calamaro gigante ed era lunga circa 60 metri, poco meno di tre vagoni di un treno. Immagina il kraken gigante nuotare nelle acque scure e gelide dell'Antartide e trascinare sul fondo tutto quello che incontra. O forse era il grande e terribile Cthulhu o qualcuno della sua famiglia. Impossibile non notare questa cascata color sangue in mezzo a questi paesaggi bianchi sfolgoranti. Non preoccuparti, non è sangue. Da molti secoli la cascata colora la neve di rosso brillante. La sorgente sgorga da un iceberg bianco. Vediamo come mai. Milioni di anni fa c'era un laghetto di acqua cristallina ma poi si è formato un ghiacciaio attorno ad esso. Uno strato spesso di ghiaccio e neve ha bloccato il sole, il caldo e l'ossigeno. Per millenni la riserva d'acqua è rimasta in questo gelido vuoto senza aria ma a un certo punto l'acqua ha forato il muro di ghiaccio ed è riuscita a uscire. Quando quest'acqua salata entra in contatto con l'ossigeno diventa immediatamente rossa e rugginosa. L'Antartide è l'unico posto al mondo dove si può vedere questo fenomeno naturale. Uno dei posti più secchi sulla terra si trova in Antartide. È uno dei deserti più desertici del mondo, le valli secche di McMardo. In questo deserto non si vedono il sole coccente, la sabbia calda e i cactus. Un deserto è un posto con mancanza di precipitazioni e acqua. Le valli secche di McMardo rispettano questi parametri ma questo posto è unico anche all'Antartide poiché non ci sono ghiacciai. Nonostante il gelo il ghiaccio non si forma nel deserto perché non piove da migliaia di anni e non nevica. Un forte vento che arriva dalle montagne raggiunge i 320 chilometri orari. È persino difficile rimanere in piedi. Il vento è carico di umidità che riscalda e fa evaporare tutti i liquidi e la neve nel deserto per via dell'elevata velocità. Solo l'aria secca tocca il terreno. Ma vi si possono trovare diversi laghi che non ghiacciano grazie all'alta concentrazione di sale. L'acqua è così salata che qui non si possono sviluppare grandi forme di vita ma gli scienziati hanno trovato organismi microscopici vicino ai laghi. 20 milioni di anni fa l'Antartide era piena di paludi e alberi e brulicante di insetti e animali. Ma ora sembra la superficie di Marte, letteralmente. Gli scienziati e gli astronauti stanno studiando le aree come quella delle valli secche di Beckmardo, proprio perché le condizioni naturali sono molto simili a quelle del pianeta rosso. Quindi prima di andare su Marte è possibile fare pratica in posti simili sulla Terra. Gli scienziati hanno scoperto anche un mondo subacqueo nell'Antartico, pieno di centinaia di anfipodi, crostacei simili ai gamberetti. Aspetta un attimo, è successo nell'Antartico? Ma le valli secche di McMardo sono in Antartide? Le parole sono simili ma qual è la differenza? Ah e non dimentichiamoci dell'Artico. L'Antartico è la regione nella parte più a sud della Terra in cui si trova il continente chiamato Antartide. L'Artico è un altro territorio. Hanno le stesse condizioni naturali, ghiaccio e neve, ma si trovano in parti diverse del pianeta. L'Artico è al Polo Nord, l'Antartide è al Polo Sud. E ora torniamo alla scoperta. Gli scienziati sostenevano che il ghiaccio nell'Antartico nascondesse una vasta rete di fiumi d'acqua dolce e laghi. E nel 2022 hanno trovato un ecosistema. Sono riusciti ad esplorare la barriera di Ross e i suoi fiumi sotterranei. Si tratta di un enorme pezzo di ghiaccio che galleggia nell'oceano. Una squadra dalla Nuova Zelanda ha usato un impianto di perforazione speciale che conteneva acqua calda per fare un buco profondo circa 500 metri, cioè più alto dell'Empire State Building. Poi hanno calato delle videocamere e visto migliaia di crostacei nuotare in differenti direzioni. Sembrano molto organizzati. Nelle acque dell'Antartico si possono anche incontrare alcune tra le più spaventose creature sul pianeta, i ragni di mare. Sono chiamati così perché somigliano ai ragni ma sono in realtà della specie di artropodi marini. E sono molto più grandi dei ragni terrestri. Sembra che abbiano otto gambe ma senza un corpo. Un singolo individuo può essere grosso quanto un piatto. Alcuni non hanno occhi e hanno una proboscide al posto delle mandibole. I ragni marini sono stati studiati poco finora perché vivono in acque molto fredde e profonde. L'Antartide nasconde molti animali poco conosciuti. Ci sono lunghi tunnel nei ghiacciai che portano a posti favorosamente bui. Su questo antico continente sono stati ritrovati i resti di dinosauri giganti e altre creature antiche come le antenate delle moderne anatre. Molti fiumi e laghi sotterranei nascondono una fauna sconosciuta e anche il ghiaccio ha forme strane. Ci sono iceberg a strisce blu, nere, verdi e turchesi. Il colore dipende dalle condizioni dell'acqua durante il congelamento. Ad esempio il verde dipende dalle alghe, il blu dall'acqua che si congela troppo velocemente. Sto congelando. È ora di andare a visitare un posto più caldo. Hawaii. Sì.